L'ex assessore regionale al bilancio della sanità Silvio Paolucci sila un giudizio sul nuovo esecutivo regionale e sulle modalità di scelta degli assessori da parte del presidente Marco Marsilio. Beh io credo che siano partiti davvero male, intanto perché hanno impiegato molto tempo per comporre la giunta, in secondo luogo perché lo stesso Marsilio ha dichiarato un qualcosa che non può esistere, ovvero chiede già l'allargamento della giunta perché non gli sono sufficienti i posti e le poltrone per accontentare tutti. Peraltro è vietato da una norma dello Stato in terzo luogo perché ha perso già due pezzi. Già in campagna elettorale avevano escluso l'Udc dalla coalizione e durante la composizione della giunta hanno sostanzialmente escluso azione politica, pertanto la maggioranza parte già a 16, cioè parte con un solo numero in più. Credo che non ci sia stata peggiore falsa partenza che proprio in all'occasione di questa undicesima legislatura. L'ultimo tema mi sembra che Salvini comandi e teleguidi tutto. Ho già detto anche scherzosamente, sembra che quando sta al Viminale prende il telecomando e accenda il programma Abruzzo decidendo un pochino tutto e altri, tutto sommato, si prestano alle sue decisioni. Tra i primi provvedimenti del nuovo presidente è quello inerente ai propri lavori stradali. Sono stati annunciati milioni di euro. Questo è un falso, semplicemente perché i 56 milioni di euro che sono stati annunciati riguardano il masterplan della giunta ad Alfonso che dedicò, orientò e poi in realtà trasferì già alle quattro province. La prima constatazione, la destra aveva sempre detto che il masterplan era privo di fondi, al contrario oggi utilizzano proprio i fondi del masterplan, quindi hanno detto un falso per cinque anni. In secondo luogo, loro in realtà hanno fatto una delibera o faranno una delibera per anticipazione di cassa, ovvero la regione mette a disposizione in anticipazione ulteriori risorse. Ecco, da questo punto di vista è un merito di cui voglio anche fregiare, perché quando noi arrivamo nel 2014 dovette la regione fare un'anticipazione di cassa di 140 milioni di euro perché era in difficoltà. Adesso che ho lasciato una regione, insieme a tutto il governo precedente, che ha 400 milioni in cassa, la regione riesce anche a fare queste anticipazioni. È un doppio merito della giunta di centrosinistra e nulla a che vedere con le decisioni del presidente Marsili.